bene siamo arrivati alla seconda parte di lavorazione della nostra maglia abbiamo costruito tutta la parte sopra siamo arrivati a dover chiudere per le maniche allora la teoria è questa una volta finito il lavoro per una taglia s bisogna lasciare dall'angolo scendendo verso la punta 20 centimetri quindi si prende il metro si misurano 20 centimetri si mette un marca punti che prenda sia la parte davanti che la parte di dietro sia da una parte che dall'altra ovviamente e questo sarà lo spazio per le nostre braccia allora per la mia taglia ed è una taglia s io ho lasciato 20 centimetri la teoria dice che per ogni taglia in più sono circa 2 centimetri quindi in media per una taglia m saranno 22 centimetri per una taglia l saranno 24 centimetri quindi si scenderà e andando avanti così io personalmente ho preso la misura di 20 centimetri ho messo il marca punti mi sono provata la maglia ho abbastanza movimento e quindi per me 20 centimetri sono più che sufficienti fate la prova prendete la misura mettete marca punti e provatevi la maglia perché essendo una maglia a forma di poncio la chiusura delle maniche sarà fatta all'altezza dei gomiti quindi non può rimanere troppo stretto il lavoro se no non c'è più movimento non ha la mobilità di una maglia normalissima perché è proprio chiusa a livello dei gomiti quindi un pochino i movimenti saranno diversi dal normale ma il braccio dentro deve avere la possibilità di fare tutti i movimenti se vi sembra troppo stretta nessuno vi vieta di fare anche se avete una taglia s 22 centimetri tanto comunque davanti io l'ho provata e resta morbida quindi fate questa prova mettete il marca punti e adesso vi faccio vedere come procedere per la chiusura delle maniche e per andare avanti nel lavoro come ricomincio il lavoro allora io per comodità per abitudine ricomincio sempre dalla parte dietro della della mia maglia come riconosco il dietro perché lascio sempre il filo iniziale di partenza e quindi il mio filo va dietro e io so che è quella la parte dietro vado in punta dove ci sono gli aumenti quindi prendo di nuovo il mio filo faccio una catenella per legare il filo all'uncinetto ok prendo il mio lavoro e adesso iniziamo ricominciamo il lavoro con il giro di mezze maglie alte quindi qua abbiamo l'aumento io entro nell'archetto dell'aumento e realizzo la prima mezza maglia alta poi prendo il mio filo e lo tengo spostato sulla sinistra in modo da poterlo incorporare nel lavoro realizzo la seconda mezza maglia alta una catenella e faccio le altre due mezze maglie alte adesso fino a dove abbiamo messo il marca punti lavoriamo normalmente con le nostre mezze maglie alte sia nelle maglie sottostanti che negli archetti mi ricordo sempre di lavorare la maglia sottostante che può venire nascosta dalla lavorazione che abbiamo appena fatto dopodiché lavoro l'altra maglia sottostante e ricomincio con gli archetti una mezza maglia alta nell'archetto una mezza maglia nella maglia sottostante una mezza maglia nell'archetto e una mezza maglia nella maglia sottostante andiamo avanti così fino a quando arriviamo al marca punti e ci rivediamo lì ok siamo arrivati in prossimità del nostro marca punti allora io vado avanti e faccio la mia mezza maglia alta nella maglia sottostante una mezza maglia alta nella catenella e a questo punto io ho il marca punti cosa faccio carico sul filo per la fare la mia mezza maglia alta entro nella maglia sottostante del primo della prima della parte che sto lavorando così poi prendo anche la maglia dall'altra parte carico sul filo esco e realizzo la mia mezza maglia alta lavorando tutte e due le parti insieme eccolo qua a questo punto io tolgo il marca punti perché mi dà fastidio ma tanto ormai il lavoro l'ho legato eccolo qui e proseguo lavorando la mia mezza maglia alta nell'archetto del resto della maglia e vado avanti vado avanti tranquillamente lavorando la maglia lavorando nell'archetto lavorando nella maglia lavorando nell'archetto già che ci siamo vi faccio rivedere la parte degli aumenti quindi vado avanti con le mezze maglie alte sia nella maglia sottostante che nell'archetto fino agli aumenti e vi faccio vedere l'aumento eccoci arrivati in prossimità dell'aumento quindi come abbiamo sempre fatto lavoriamo le due maglie sottostanti normalmente andiamo all'interno dell'archetto realizziamo una maglia una mezza maglia alta due mezze maglie alte una catenella e di nuovo due mezze maglie alte nuovamente dobbiamo andare a lavorare la prima maglia sottostante che è un po nascosta quindi io sposto un po il filo entro nella maglia e realizzo la mia mezza maglia alta e poi proseguo normalmente come ho lavorato fino adesso continuo a fare le mie mezze maglie alte arriviamo da sole fino al prossimo marca punti così chiudiamo insieme l'altra manica e proseguiamo siamo arrivati di nuovo in prossimità dell'altro marca punti quindi io lavoro la mia mezza maglia alta nell'archetto la mia mezza maglia alta nella maglia sottostante la mia mezza maglia alta nell'archetto e a questo punto sono arrivata dove c'è il marca punti quindi carico sul filo entro nella maglia alta sottostante entro anche nella maglia sottostante dall'altra parte carico sul filo esco da una esco da due carico su di nuovo il filo e chiudo la mia mezza maglia alta e così ho chiuso anche l'altra manica a questo punto io tolgo anche questo marca punti perché mi dà fastidio no e riprendo la lavorazione continuando dall'altra parte quindi una mezza maglia alta nell'archetto una mezza maglia alta nella maglia sottostante scusate mi è scappato via tutto ok eccoci qua una mezza maglia nell'archetto una mezza maglia nella maglia sottostante e arrivo fino a dove finisce il giro ci vediamo alla fine del giro ok siamo arrivati alla fine del giro quindi io continuo con le mie mezze maglie alte fino alla fine realizzo l'ultima mezza maglia alta nella maglia sottostante vado a prendere la seconda catenella a partire dal basso e chiudo con una maglia bassissima e abbiamo ripreso la nostra lavorazione di partenza una volta che abbiamo legato la nostra maglia sul fianco abbiamo due possibilità di lavorazione e questo dipende dalla scelta che ognuna di noi fa se avete bisogno di una maglia che sul fisico cada leggermente a trapezio per nascondere un pochino di pancetta o un pochino di fianchi o semplicemente perché vi piace che la maglia scenda morbida e larga sul resto del corpo non farete altro che continuare la lavorazione come abbiamo fatto fino adesso quindi fare il nostro giro di doppia maglia alta con la catenella per tutto il perimetro del lavoro arrivati sulle due punte davanti e dietro farete i vostri aumenti e andrete avanti se ve la provate addosso potete addirittura decidere di farla cadere ancora più larga semplicemente aumentando le catenelle di separazione sulla punta noi adesso fino adesso abbiamo sempre fatto due maglie in qualsiasi giro ad esempio prendiamo l'ultimo due mezze maglie alte una catenella due mezze maglie alte nell'archetto abbiamo creato il nostro aumento se l'aumento dovesse servirvi maggiore perché la volete molto più ampia potete semplicemente risolvere così due mezze maglie alte due catenelle due mezze maglie alte addirittura potete arrivare a due mezze maglie alte tre catenelle due mezze maglie alte così la maglia andrà ad allargarsi non esagerate perché sennò vi viene fuori una coperta questo sì però se vi serve leggermente più larga e più svasata la maglia semplicemente o andate avanti così in tutti e due i giri quindi sia quello con le mezze maglie alte che quello con le doppie maglie alte proseguite nella stessa maniera e la vostra maglia si amplierà in questo modo ampliandosi in questo modo andrà ad essere molto più morbida sulle nostre curve e qui è semplicissimo perché voi andrete avanti ad oltranza fino a decidere che misura volete per la vostra maglia se invece come me volete realizzare una maglia che cada sulla pancia sui fianchi in maniera diritta bisogna apportare delle leggere modifiche queste leggere modifiche sono semplicissime per ogni aumento che faremo sulla punta andremo a fare una diminuzione sul laterale sul fianco quindi invece di far crescere la maglia in diagonale e quindi creare più spazio per farla crescere morbida noi andremo a lavorare in maniera diritta avremo sempre la nostra punta che scenderà ma sul fianco scenderemo diritte e questo farà sì che la maglia non crescerà più in larghezza crescerà in lunghezza perché facendo l'aumento sulla punta crescerà in lunghezza ma non crescerà più in ampiezza ora vi faccio vedere come scusate come effettuare la diminuzione sul fianco per poter non far crescere più di dimensioni la maglia ripeto chi ha bisogno di farla crescere per esigenze fisiche o per gusto personale non non dia retta quello che faccio in questo momento va davanti come ha lavorato fino ad ora e la sua maglia si amplierà questa è solo per chi vuole una maglia che sia più lineare più diritta quindi dopo aver fatto il nostro giro di mezze maglie alte che hanno chiuso insieme le maniche il davanti col dietro per creare il buco delle maniche noi ripartiamo con il nostro giro doppie maglie alte catenelle io ho fatto l'aumento ho camminato con le mie doppie maglie alte catenella fino all'aggiunzione delle maniche in modo da potervi far vedere cosa dovete fare adesso arriviamo proprio alla giuntura e vi faccio vedere la giuntura è qui quindi ho ancora da farne una ok allora io adesso devo dovrei fare normalmente per lavorare normalmente la mia doppia maglia alta nella in questa maglia sottostante salterei questa andrei a lavorare dentro questa e farei l'altra maglia doppia maglia alta invece faccio semplicemente tiro sul filo per fare una doppia maglia alta ed entro nella mia maglia sottostante carico il filo butto giù una volta butto giù due volte e tengo il filo in mano non faccio la catenella ricarico il filo due volte salto un'altra maglia entro nella maglia subito dopo realizzo la mia doppia maglia alta l'ho buttata giù due volte il filo in mano carico di nuovo il filo e butto giù tutti e tre e ho creato una v la vedete qui una v di diminuzione proprio nel centro dove poi parte la manica a questo punto io ho fatto la mia prima diminuzione ora ricomincio catenella doppia maglia alta salto una maglia e proseguo così fino alla punta della mia maglia dove farò i miei aumenti ok la vedete la v questa è la v di diminuzione abbiamo lavorato due doppie maglie alte insieme quello che abbiamo aumentato da una parte l'abbiamo tolto dall'altra arriviamo fino alla punta facciamo l'aumento insieme e poi andiamo avanti arrivati alla punta per fare il nostro aumento da questo momento in poi lavoreremo in maniera differente se prima dentro nell'archetto noi abbiamo lavorato due maglie un archetto due maglie da adesso in poi ne lavoreremo una questo cosa vuol dire arriviamo all'archetto quindi facciamo le nostre la nostra doppia maglia alta per arrivare all'archetto così una catenella e andiamo a lavorare dentro l'archetto carichiamo una maglia una doppia maglia alta una catenella una doppia maglia alta ok facciamo mi faccio vado avanti così riesco a farvela vedere meglio ok eccoci qua praticamente la differenza è che prima lavoravamo due maglie due maglie catenella due maglie da adesso in poi noi lavoreremo una maglia catenella una maglia questo perché perché noi qua abbiamo fatto un aumento di due maglie l'aumento che abbiamo fatto qui di due maglie per far crescere la nostra maglia mantenendo la stessa forma noi l'abbiamo tolto mangiando due maglie qua ora proseguiamo fino all'altra parte e vi faccio vedere di nuovo la diminuzione che dovrete andare a fare perché la diminuzione andrà fatta sia da una parte che dall'altra siamo arrivate al nostro sottomanico e qua dobbiamo realizzare la nostra diminuzione quindi una catenella carichiamo sul filo due volte entriamo nella maglia che dovremmo lavorare lavoriamo due volte teniamo sul filo non facciamo la catenella ricarichiamo su due volte saltiamo la giunzione e andiamo nella prima maglia lavorabile dall'altra parte scarichiamo il filo due volte ne abbiamo su tre carichiamo il filo e chiudiamo tutto insieme e abbiamo realizzato la nostra altra V la nostra altra prima diminuzione faccio una catenella ricarico sul filo salto una maglia vado nella seconda maglia sottostante e faccio tranquillamente la mia doppia maglia alta e così proseguo fino alla fine del giro ci vediamo alla fine del giro che vi faccio vedere l'ultima diminuzione con il giro di mezze maglie alte che è quello più fitto dopodiché potrete continuare da sole perché sarà sempre uguale il lavoro da fare arrivate alla fine del giro chiudiamo sempre con la nostra maglia bassissima ok e ripartiamo ci alziamo con due catenelle lavoriamo le maglie che abbiamo nel giro sotto e arriviamo all'archetto all'archetto faremo semplicemente una mezza maglia alta una catenella una mezza maglia alta dopodiché proseguiremo a lavorare le nostre maglie come abbiamo sempre fatto fino adesso fino al sottomanica dove vi faccio vedere per l'ultima volta la diminuzione come va fatta lavorando le mezze maglie basse dopodiché potrete proseguire da sole fino a raggiungere la lunghezza della maglia che preferite benissimo siamo arrivati al momento di fare la diminuzione a questo punto io entro nell'archetto prima della diminuzione carico sul filo e scarico mezza maglia carico di nuovo sul filo scarico l'altra mezza maglia prendo sul filo e scarico tutto e ho fatto la mia diminuzione non faccio catenelle in questo giro non devo fare assolutamente niente e vado a lavorare all'interno della mia maglia sottostante con la mia solita mezza maglia bassa e proseguo il giro ok ecco qua l'archetto grande per la diminuzione con le doppie maglie alte l'archetto piccolo per la diminuzione con le mezze maglie alte a questo punto io vi ho spiegato cosa dovete fare sia per lasciare la vostra maglia più larga sia per lasciare la vostra maglia leggermente più stretta a voi la scelta di come lavorare e di come realizzare il vostro capo questo sarà l'effetto che avrete con la diminuzione ci sarà l'archetto con solo due maglie all'interno e le diminuzioni nel laterale eccole qua ora potete proseguire nello stesso modo fino a raggiungere la lunghezza che desiderate benissimo io sono arrivata alla fine della nostra maglia eccola qua e sul fondo e sulle maniche ho applicato le frage per applicare le frage l'unica accortezza è stata quella di finire la lavorazione con il punto doppia maglia alta archetto in modo da poter poi applicare le frange adesso vi faccio vedere su una manica come si applicano le frange per chi non lo sapesse e la nostra maglia è finita allora io ho deciso di applicare le frange ma di applicarle un buco sì e un buco no un buco sì e un buco no per non farle troppe fitte mi sono tagliata delle striscioline tutte della stessa misura ne prendo due quattro sei le doppio poi decido qua no parto da qua entro con l'uncinetto tiro fuori il cappiettino dei miei figli uniti apro il buchino e faccio il no lino ecco qua scusate la mia frangia è attaccata ve ne faccio vedere un'altra tre quattro cinque sei ok doppio realizzo il cappietto allora io ho deciso di saltare un buchino e di prenderlo quell'altro ecco qua e vado avanti così per tutta la maglia e questo è il risultato delle frage la nostra maglia a questo punto è finita volendo l'ultimo passaggio che si può fare è sul collo se vi risulta troppo molle un giro di rifinitura di maglia bassa per stringerlo un pochino questo però vedetelo voi la nostra maglia è finita grazie a tutti